Enzo Bondi è stato trovato morto sul lungo TV Arredante a Roma. L'influencer di calcio, conosciuto sui social network con il nome di Caeserini, aveva 40 anni. I drammatici fatti risalgono alla scorsa mezzanotte, tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Secondo le prime informazioni apprese, a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo privo di sensi e hanno chiesto aiuto. Subito è partita la chiamata al numero unico dell'emergenza 112, con la richiesta urgente di intervento. Arrivata la segnalazione sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo, presenti sul luogo del ritrovamento i carabinieri che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da un primo esame esterno sulla salma, da quanto si apprende, non sono emersi segni di violenza. Terminate le verifiche sul posto, il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia. Gli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso. La notizia della sua drammatica ed improvvisa scomparsa si è diffusa nelle scorse ore. Tanti gli utenti che hanno scritto messaggi di cordoglio sotto ai suoi post per ringraziarlo, di averli fatti ridere e divertire con i suoi contenuti di intrattenimento e salutarlo. Ciao Enzo, riposa in pace, non ci sono parole, continua a tifare la nostra Roma dall'assù. Grazie. 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 Grazie.